Salve a tutti amici, benvenuti a questo nuovo video, io sono Salvo Pimpos e oggi ritorniamo alla domenica horror con piccoli brividi la notte della paura L'ho fatto praticamente agli inizi del canale, quindi a grande richiesta ci ritorniamo Ci ritorniamo perché sono stati fatti degli aggiornamenti durante tutto questo tempo Quindi vediamo che cosa è cambiato nel tempo Con l'occasione anche del fatto che sta uscendo Piccoli Brividi 2 il film Quindi speriamo che venga fatto anche il gioco di Piccoli Brividi 2 Guarda le impronte per muoverti Allora, sì ragazzi, guardate qui, ci ritorniamo Vi ricorda qualcosa? Ovviamente, se mi seguite da tanto ovviamente sì Dunque, trova la macchina da scrivere Ovviamente l'avevo fatto tempo fa con il Galaxy S5 se non sbaglio Quindi adesso siamo su S7 e dico la qualità è ancora migliore Allora, trovo la macchina, va bene, forse L'ho trovata, dai, forse Sono RL che scrivo Voglio dire, sono uno scrittore, dannazione Una macchina da scrivere, sono Stein Semplicemente RL Stein Uno scrittore, ho scritto Piccoli Brividi Oltre 400 milioni di copie vendute in tutto il mondo Ma questo non ha importanza Qualcuno ha? Qualcuno, qualcosa ha Il blocco dello scrittore Davvero terribile, mi serve inchiostro Guarda, prendi l'inchiostro, va bene E prendiamoci nuovamente l'inchiostro Guarda la macchina da scrivere, va bene Quindi scrivi, tizio, ti do l'inchiostro Tieni, scrivi, scrivi Ok, pronto Teniamoci pronti perché qua Oh no Nascondiamoci Veloce Nascondiamoci Perché sta entrando Slappy Ciao Slappy Mi sei mancato veramente tantissimo Pussante Occhi per nascond... No, no, no Fatemi leggere prima Non è che me lo ricordo io Ok Vabbè, rinascondiamoci Forza Ok, sotto la scrivania Slappy Per favore, non rompermi le schelte Ok, prendi il pulsante occhi per nasconderti Ciao Slappy Sempre a testa di ramoscello sei Dov'è? Dov'è? Dove sei Slappy? Eccolo qua Che cacchio tari di affare Vieni qua Vieni qua Omuncolo Vieni qua Te la scappi, vero? Te la scappi Ok Guarda vicino alla statua Egizia Andiamo alla statua Egizia Forza, prendiamo il libro Ok, trova una pagina Vicino al camietto Va bene Quindi, cominciamo a raccogliere le pagine Ragazzi Qua se non sbaglio Ce ne sono tre al prologo Gli altri livelli ovviamente Saranno più complicati Ok, prima pagina è trovata Accendi le luci Ok Le luci, se non sbaglio Erano da questa parte Ok La chiave è vicina ai libri blu Di fianco alla porta Va bene Quindi qua Vicino ai libri blu Quindi rompiamo tutto Ora sblocca la porta Sblocchiamo la porta Forza Capitolo 1 Raccogli due pagine Al piano di sopra Va bene Qui se non sbaglio C'è il ghoul Non voglio spaventarti Ma se vedi o senti qualcosa di strano Nasconditi Sì, perché c'è la ghoul Che rompe le scatole Eccola lì Eccola lì Eh, quella è una ghoul Del cimitero Sì, lo so Lenta, non molto intelligente Mantiene una certa distanza Da lei Se ti intrappola Prova a nasconderti Ed è quello che sto facendo Praticamente Eccola Ciao Ciao No, 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 no Non cominciare Non cominciare Testa di ghoul Sempre, sempre Bellissime gambe Devo dire Non si è cambiata Per niente nel tempo Sempre bellissima Sempre uno spettacolo Ok Usciamo Sempre se non mi fa Il cucù Allora Dove erano le pagine? Che io non è che mi ricordo Qui le cose Usciamo Vediamo dove è lei Ok Andiamo di qua Ok No, non rompe le scatole Ammazziamo il nan Vieni qua Nanaccio Prendiamo la pagina Ok Una pagina recuperata Nascondiamoci Non si sa mai La ghoul mi viene da dietro Ghoul dove sei? Ghoul Cara donnina Dove sei? Non la vedo Quindi proviamo a uscire Tanto lo so che adesso È dietro l'angolo Dove sei? Dove è? Ho paurissima È da queste parti Mi nascondo Dentro la vasca Ti prego Donnina Mi fai continuare Per la mia No, che fai? Non uscire Non uscire Non uscire Donnina Mi fai continuare Per la mia strada Per favore Già siamo al primo livello E già rompi le scatole Eccola qua Ciao No, 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 no Non venire qua Che mi sto lavando Dai, c'è un po' di privacy Da rispettare nella vita Cerca di farlo No, no, no Non sono qua No, non mi guardare Non mi guardare Perché non sono qui No Non sono qui Ok Mi chiude pure la porta Al solito direi Va bene Allora Apriamo la porta Dov'è lei Però Non si sa Ok Andiamo di qua Dove sei Caragull Sì, non ci sto andando Tranquillo Mi vado a nascondere Lì c'è la pagina Perfetto Nascondiamoci sotto il lettino Prendiamo la paginina Ok Abbiamo recuperato Tutte le pagine Ora trova Slappy È intrappolato È intrappola Non è intrappolato Magari fosse già intrappolato Allora Se non sbaglio Dovevamo ritornare Dove abbia iniziato Di là Vediamo un po' Slappy dove sei? Ok Avvicina Slappy E tieni premuto su di lui Per acchiappare Vieni qua Slappaccio Faccia di capra Vieni Vieni Devi venire qua Devi venire qua Slappy mi nascondo Così tu non mi metti Dove sei? Dove sei? Slappaccio? Dov'è? Oh è scappato Vieni qua Testa di namocello Vieni qua Perché ti ammazzo Slappy Slappy Vieni qua Perché ti ammazzo Dove sei? Dov'è? Abbiamo perso Slappy Slappy Dai non ti faccio niente Vieni qua Vieni qua Che non ti faccio niente Vieni Vieni qua Testa Dai Vieni qua Non scappare Non scappare Vieni qua Sempre più Sempre più piccolo Se rompi scatola Vieni Che veloce Oh ma è L'hanno fatto più veloce Vieni qua Se è caduto Vieni qua Non rompere Oh alleluia Ragazzi abbiamo capito Slappy Finalmente Per la seconda volta Ok Hai vinto Grande È svolta È svolta Chiuso il libro Intrappolando Per sempre Slappy Mettendo fine Oh Piano però Scrittore Stavolta Se andò in un luogo Sicuro e molto Molto lontano Fine Ma poi la luce Dora È pchk Capitolo 2 Raccogli nuove pagine Per il libro Al piano di sotto Ok ragazzi Il prossimo livello Lo affronteremo Nel video Che pubblicherò Alle ore 17 Quindi non perdete Il video di pomeriggio Quindi alle 17 Per vedere Il secondo livello Quindi mi raccomando Lasciate un bel like Vi ricordo che potete seguirmi Anche sulle page Facebook Twitter Insieme a tutti i social Di cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E ci vediamo Al prossimo video E oggi torniamo Su un nuovo episodio Di Minecraft Allora Continuiamo La nostra Avventura Cercando di sbloccare Gli obiettivi Oggi Volevo provare A catturare Un pesce E ci vediamo